Signori e signori, è arrivato da lontano per arrivare fino in Trentino, si è lanciato da 3.000 metri ed è atterrato in piedi nelle acque gelide, non è annegato, come tagliabosco l'hanno pure cacciato, le sue figure di M hanno fatto il giro del globo e qui solo per voi l'altissimo, il nierissimo, ma chi è l'acqua minerale, Max Guerriero! Buo 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 buonasera e bentrovati ad SDM stasera da Max, questa sarà una puntata davvero scopiettante, molto hot, ti ho chiamato in causa, scatozza, non mi sbagliare, non mi sembra, no 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 no, mi hai chiamato in causa, si, ah così è, la trasmissione è la tua, ti ha autorizzato? Sempre, io non ho bisogno di autorizzazione, addirittura, addirittura, ragazzi guardate chi è tornato con noi, HONDO! Ciao, HONDO! Niente, scatozza? Max! Cosa accade? Questo è tornato dall'Erasmus e non mi parla! No, ha detto che sta in sciopero perché sta arrabbiato con te! Bah, va bene! Cresci figli, cresci! E finiamola qui, ma adesso vi devo presentare il nostro super ospite e lo farò come sempre con questa clips dei miei opinionisti, gli illuminati hanno tutti studiato a Cambridge, clips! Eccoci qui Max, sempre in compagnia dei miei opinionisti, gli illuminati intellettuali da altri tempi, allora, la domanda qual è, Carminuccio Bello? Sì, mio amore! Che cos'è il burlesco burlesque, come lo vuoi chiamare? Scegli tu, che significa, che cos'è? A me va parare... È una cosa hot, calda! Cosa non ho sentito? Ragazzi che si dovrebbero spogliare! Si dovrebbero, sì! Ma è una bella ragazza! È certo che è una bella ragazza! Se non è una bella ragazza, non la faccio! Tu non ti spogliare perché fai un poco schifo! Se la spogliate io, che dice? No, 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 no! Non la potete spogliare, non fate subito i pensieri sporti! Se è una bella ragazza, farla venire, perché io non mi sono vicino allora devo sempre la guardare! La guardi? Ok, la conosci anche? No, non la devi presentare tu! Eh, te la presenta, eh, mica hai vergogna! Mi fai un putello, ma che se si spogliò, vero? Eh, dovete vedere la puntata! Ragazzi è stato un piacere! Aspetta, non ci voglio... Il boccido giro! Eh, te lo sanno, no, non ti preoccupare! Anche l'occhio vuole la sua! a parte bravo che saggita ha detto e biondo e bruno ma non te lo posso dire allora restituite la linea al piccolo max allora si troviamo la linea al piccolo max guerriero bravo mamma mia sei pure il cognome mamma mia che stile che classe peggy lee fever febbre francesca filardo buonasera e che gattona caro caro ma chiamami candy ti credo caramella che uomo francesca filardo caramella da maniare no no caramella sbocciante guardate come sboccia ma mostro non si poteva fare quale la mossa che la massa su fever è difficile la mossa la mossa ho capito no la massa l'abbiamo la sostanza si può fare se mi mettete non lo so un ruolo di tamburi una cosa adeguata è troppo per noi applauso per candy grazie scusate mi sono stancata tantissimo ma hai messo giusto una cosettina sei venuta come ti sei svegliata proprio guarda quello che avevo per casa sono preso una cosa sì perché in realtà vabbè ovviamente capirai io per casa sono in vestaglia però è il primo abito che ho trovato prima di scendere siamo pronti io sì tu io sempre allora parliamo puntata calda pure il pesciolino si muove luna ti piace luna la verità su pesciolino pare morta sarà no 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 trattato benissimo per quello che riguarda max e morte vabbè facciamo stai a parlare con candy francesca come voi tu allora come avrete capito francesca candy si occupa di burlesque burlesque come si dice burlesque allora senti cara candy dimmi caro Però il burlesque è un po' discriminatorio verso l'ometto, ma è vero che lo possono fare solo le donne o sbaglio? No, 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 sbagli. Diciamo che ci sarebbero i burlesque, ma a Napoli ne abbiamo pochi, diciamo. Io vorrei creare un gruppo di burlesque. E Scatozza e Pietro Villano alla camera, già siamo pronti! Benissimo, e allora quando ci vediamo? Gattuna, quando vuoi! Quindi anche gli uomini lo possono fare. Sì, sì, si chiamano boilesque. Boilesque, boilesque, signori miei, scrivete all'ottima candy barra Francesca e risolviamo tutto. Ci organizzo un corso? Sì, sì, vi organizzo un corso. Ho già il giorno adatto. Ma quanto si guadagna? Come? Quanto si guadagna? Quanto si guadagna? Ma proprio siete dei volgari. Ma dipende da quanto sei bravo, caro. Ma c'è una cosa sorda? Ma certo che ci esce, però dipende da quanto sei bravo. E sia chiaro quanto sei bravo, non quanto sei bello. Di bellezza molto, di bravura. Guarda, guarda, Francesco, il caro Federico non è né bravo né bello. San Manguaià, devo fare un lavorone. Lavorone, lavorone, big lavoro. Ma adesso... Scusate, ogni tanto si sente il mio accento di Londra Nord. Ma non ti... Ah, pensavo Londra Sud. No, Nord, Nord, sì, sì. Va bene. Adesso, però, vorrei capire, ondo, cosa è accaduto. Forse c'è una lettera per me, regia? Teniamo anche Maria De Filippi in arte. Maria Feola! Hai visto che è bella donna? Meravigliosa. Ma c'è la solidarietà, ma non c'è delle artiglie, delle nuse. Nei miei corsi di burlesque e le ragazze che lavorano con me, sì. Sì. È proprio una... No, fuori dico. Fuori non lo so. Secondo te esiste la solidarietà femminile? No, anzi, le donne normalmente sono nemiche delle donne. Ed è per questo che bisogna fare il burlesque. È una cosa triste, no? È molto triste. Invece con il burlesque si impara a essere solidari. C'è aggregazione. C'è aggregazione, non avete più scampo. Che fortuna! Vediamo cosa scrive ondo. Cosa scrive ondo? Sono in silenzio, stampa, domani riparto. Questo sta facendo l'Erasmus. Sono tornato solo per salutare mamma. Ti ringrazio. Con te non parlo, mi hai abbandonato. Ma se ti ho fatto un bonifico di 2.000 euro venerdì, PS, comunque, complimenti alla signorina, chiedile se sono possibili, ripetizioni private. Sei sempre il solito, io non so come definirti, sei un porco. Vabbè, ma... Vabbè, ma... Fai schifo! Fai schifo! Questa è l'unica nota vocale che ondo mi manda ogni giorno. Per ricordarmelo. Fai schifo! Chifo! Va bene, andiamo avanti. Altra domandina e poi vediamo in che cosa consiste il tuo lavoro. Ma è uno sbattimento sia da sotto e sia da su. Sì, sì, questo si chiama scimisheik. Scimisheik. Poi, fallo vedere meglio il scimisheik. Scimisheik. Federì, ti piace il scimisheik? O anche, scimisheik. Bello così. Da dietro. Com'è? Vabbè, andiamo avanti. Federico è meraviglioso. E tu vuoi portare a casa? No, grazie, te lo lascio all'intieri. Va bene. Sai, costo anch'io. Io mangio poco, eh. Mangia poco, tieni una panza! Ma che mangi poco? Mangi poco o non vai d'accordo con me? Scusami. Federì, ti sei tradito da solo. Scusami. Ehi, dica. Tu fai stifo sempre, da mattina, alla sera stifo sempre, quando scende. Comandano loro. Dobbiamo ribaltare tutto. Ribaltiamo, sì, ribaltiamo. Allora. Dimmi, caro. Cara Candy, però io preferisco chiamarti Francesca. Candy è il nome. Guardami negli occhi, tesoro. No, Candy. Eh no, perché guardavo, vedevo che guardare il microfono sta a posto. No, 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 che stai insinuando? Ma quando mai? Cioè, non lo so. Dove stai inquadrando, scatò? È innocuo, è innocuo. Diglielo, diglielo. Però tu fatti i fatti tu, innanzitutto, eh. Se no vai nei guai pure tu, eh. Le separazioni oggi costano! Tieni caldo, amore, eh. Sì, ho caldo. Senti la mia voce. Si sta squagliando. Eh, che fortuna. Allora, cara Candy barra Francesca, lo sai che a volte si cade nei luoghi comuni. Io lo vorrei, vorrei chiarire questa cosa. Col burlesque, poi sempre. Non è pornografia. No. Tutto il rispetto per chi fa il porno, figurati, sono scelte di vita. Ognuno fa quello che gli pare. Ognuno fa quello che gli pare. No, non giudichiamo nessuno. Però vorrei capire, il burlesque, a parte il movimento di culo e di tette, che cos'è? Ci sono tanti tipi di burlesque. Comunque il burlesque è un'arte teatrale molto antica. Chi dice che è nata in Francia, chi dice che è nata in Inghilterra. L'unica cosa che interessa a noi napoletani, che è l'unica forma di burlesque che è arrivata all'inizio del Novecento in Italia, è stata a Napoli con le sciantose. Il resto d'Italia, il burlesque non sapeva cosa era. Tu ti senti molto sciantosa? Ma non so, la mossa non mi viene tanto bene, la verità. Io mi sento molto burlesca. Intanto sto imparando anche a cantare per fare dei pezzi. Facci qualcosa? Ma io canto Mamma mia, mamma mia! Maria, senti, ma gli uomini che vengono a vederti e a vedervi, insomma, qual è la tipologia dell'uomo che vi segue? In realtà, so dirti poco sulla tipologia dell'uomo che ci segue. Non le guardi proprio? No. Io sono una professionista. No, mi servono per fare i giochi in scena. No, ci vengono a vedere gli uomini e ci sono tutte le tipologie di uomini. Non c'è, cioè il burlesque è democratico. Va bene per tutte le donne, ma va bene anche per tutti gli uomini. Però quello che volevo far notare è che il pubblico maggiore è... Faccio anche io... No, mi è venuto un indurimento. Il pubblico maggiore è quello femminile. Cioè noi abbiamo più donne che ci vengono a vedere che uomini. Ti piace il collo del mio piede? No, la verità dovresti fare un po' di tecnica per fare queste cose. Sì, questo movimento non è molto burlesque, la verità. Chiedo a Pietro Villano, vogliamo vederla in azione? A chi? A me? A chi? A Candy. Non lo so, a chi vogliamo vedere? Scatò. Siamo io, tu e Pietro. A chi vogliamo vedere? Scatò, manda a Candy, va. Vediamo questa clips. Ciao. 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 Grazie a tutti. E' una cosa a terra, quella con il più macio, quella mi piace assai. Quella è una fan dance, ma sei tutta anglosassone, questo più macio qui. Ma scusami, chiamo Candy, per forza devo essere anglosassone, questo più macio fa parte del costume, ecco, senza questo più macio. Mi dispiace che si vede poco. No, no, ma si vede, si vede. Si vede? Sì, sì. Guarda qua quanto è bello. T'ha posto. Sto piezzi più, ma dimmi. Noi siamo molto ospitali, adesso entra un altro mostro, un mostro così bravo, però fa parte della mia scuderia personalissima. Beatrice, la mano amica per il caffè, perché noi offriamo anche il caffè. Sì, per fare una mattina. No, no, non la fa. Però tu l'hai capita. È già sottintesa. Canozza, tu l'hai capita. Non si chiamava Beatrice. No, lo so, non lascia stare. Vabbè, ma... Beatrice! Ringraziamo Raffaele Picca. Sempre per la disponibilità, non mi chiede sordi. Veloce! Ecco qui. Grazie. È buono, lo puoi prendere, sorseggiare, è già zuccherato, è sweet come te, amore mio. Mamma mia, che cosa sei. Senti, cara, allora abbiamo parlato del burlesque. Quanto tempo richiede la preparazione ad uno spettacolo? Perché io so che è molto lunga, no? Sì, sia lo spettacolo che ha una performance. Sono due cose diverse. Spiegale. Cioè, io posso fare una performance, che è un pezzo che dura dai 3 ai 6 minuti, normalmente, oppure fare uno spettacolo con altre performer. In questo momento io sto preparando una performance da sola, nuova. sto imparando a usare le bolas, perché mi piace imparare sempre. Boccias o bolas? Ah, scusa, le bolas. Sì, sì, perché era arrivato il momento di avere le palle. E che sono queste bolas? Sono delle palle che girano. Ah, perfetto. Anche a me girano. Roteano. Roteano, girano così, si fanno girare. Così, ah, si fanno girare. E invece con il mio gruppo di burlesque sto preparando uno spettacolo. Per me faccio la mia, allora mi prego la mia. Questo spettacolo si chiama The Lost in Love. Quest'anno ci dedichiamo all'amore. L'amore, l'amore. Love, love, love. Posso poggiare? Ti piace, certo, certo. Regia, c'è qualche telefonata? Noi siamo gettonatissimi. Siamo gettonatissimi. Senti, a proposito, prima della telefonata, perché so che ci sono circa... Adesso aspetti perché devo fare un po' di reclam personale. Questo fa parte della linea Clalbi, se ti interessa. Vendiamo tutto ovviamente fatturato. Non c'è problema. Lampada, scrivania. C'è la maglietta personale, 8,50 euro per te, 7 euro. Non c'è problema. Quindi divulga il verbo. Ma la mia taglia ce l'avete? Assolutamente. Ma io amo le curvi. Viva le curvi. E qua voglio l'applauso. L'applauso alle curvi. Burrosa. Grazie. C'era una telefonata. Pronto? Pronto? Questa voce la riconosco comunque. Sì? Sì, prego. Sono Tonino da Capodichino. Tonino da? Capodichino. Capodichino. Vuole fare una domanda alla nostra ospite? No, vuole fare una domanda a te. Prego, Tonino, dimmi. Ma sei venuto da una mannata. E io... Devo dire hai un pubblico un po' scostumato. No, la colpa vuoi sapere di chi è? Di chi è? Sempre di Federico. Non fa il suo lavoro. Ma quando va? Federico, non filtri! Ma io adesso lo capisco. Questa è una trasmissione seria! Curte, curte, sono curta e me ne vanno. Qual è il problema? Curte, curte, è un pubblico un po' scostumato. Curte. Guarda, questo. Azzo! Azzo! Scusa, hai detto mettiti comoda, sei nel salotto di casa tua, io nel salotto di casa mia so' così. ovvio ovvio posso prego sta calza a rete ragazzi ah tieni anche un piccolo tatuaggio certo un gatto che tipo devi tatuare un gattone villano sta gradendo sta gradendo villano allora andiamo avanti con la nostra chiacchierata ma io ti ho portato una cosina no sta notando è volata una piuma eh ma io perdo le piume ma non il vizio che mi hai portato castigami sono due sono due due ti devo insegnare un po di burlesque dai che devo indosso sto perdendo il poco di credibilità che mi ero costruito in questi anni di duro lavoro io pensavo che erano fruste no che non mica una frusta ragazzi nel burlesque non c'è la frusta no si può anche usare la frusta però in questo caso volevo fare una cosa più delicata me lo sa domani la prima volta che ci vediamo subito subito anche quello è aggressivo scatozzi è aggressivo scatozzi la prossima volta la porto per te la frusta non ti preoccupare scatozzi ma meno male che ce n'è solo uno che scatozzi ma che ho detto scatozzi ho detto scatozzi già siamo sfortunati ad averne uno figurate più di uno stai un po rinco oggi che è successo tu io no caldo in questo non ti dico spogliati perché quasi no basta che me lo deve dire il conduttore sono io ti piace la mia penna mi aspettavo qualcosa di un po più erotico senti allora tipo fallo di cristallo alla cicciolina che devo fare questi guanti adesso tu si può rimettere fever per cortesia si può fare i nostri potentissimi mezzi regia si può rimettere tu mi devi imitare guarda never know how much i love you never know how much i can't when you put your arms around me i get a fever that's so hard to bang you give me fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning bravo dobbiamo pure l'altro no però non devi coprire il busto dai ti prego la rimetti fever? no ma anche senza no e mi piace sto fever va mi è piaciuto sto fever ya mettete fever 1956 peg lì 1958 senzorissima peg lì vai 1 2 3 e 4 ferro 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 facciamo così facciamo così never know how much i love you never know how much i can't when you put your arms around me mi stai grattando ma poi lo posso lanciare da Pietro Villano Pietro ma non lo devi ammappociare lo devi lanciare guarda lo devi lanciare così in the morning fino a tu prego prego dopo questa figura molto DM un poco nobile ma hai detto che volevi fare boilesco come prima lezione va benissimo senti ma non ho capito la copertella a chi serve? no a te se la vuoi sei freddo caldo insomma per creare una sono pure innecata ma poggiala qui e qual è il problema? la poggiamo qui è arrivata Candy Blu ma stai tutta infocata mamma mia voglia quanto manca? a cosa? il ragù il tempo vola è precisamente sta pipiando tu il ragù lo sai fare? io faccio il miglior ragù di Capodimonte ci invidi a casa tua va bene ragazzi eh ma non per farmi i fatti tuoi poi giochiamo tra poco ma sei fidanzata? no vuoi fare un appello? un appello in tv non siamo gelosi allora sì io vorrei come lo vuoi? un uomo lo voglio ok lo vuoi abbiamo capito una cosa molto semplice ma molto difficile insieme sì io vorrei un uomo intelligente eccomi non la parla con scato capite perché sono single insomma ecco quello è il problema senti l'ultima domanda un po' hot ma secondo te quante volte mediamente uno per stare in pace con se stesso deve? deve? no sì più preciso sì più preciso scusa siamo alle 11 abbiamo superato sì l'amore no? ah il più possibile più possibile il più possibile tutte le volte che è un minuto di tempo vai? sì anche perché guarda io ho una teoria sì qua tutti quanti parlano il tradimento non è il tradimento se tu il partner lo sfianchi non ti tradirà mai applauso a Candy lo sai che è il rapporto perfetto secondo una ricerca che non ho fatto io né Pietro Villano deve durare 7 minuti ma tu sei dura Shell? eh Max? eh mediamente a te 30-40 sì dimmi che vuoi? ma che non ti chiamano Smidi? no a me mi chiamano Ertrapano cioè fai sentire un poco cioè secondo te un uomo per soddisfarti quanto deve durare tecnicamente? ma almeno un'oretta almeno uè lo sfondi Franci ma te l'hai detto non mi voglio far tradire cioè Nora mamma mia è solo per il preliminario Nora sentilo bravo vedi? vedi? ma quello parla bravo lui c'è il gioco quanti minuti abbiamo? Max un minuto e mezzo veloce veloce un minuto e mezzo veloce veloce facciamo questa cosa a vola a vola il gioco dell'arena una sveltina no il gioco dell'arena no aspetta però devo infilare la piuma dentro infila dentro infila 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 ecco qua ecco qui allora vediamo se riesco ad acchiappare una delle corde aspetta vediamo se ti posso aiutare siamo in periodo natalizio eh niente ho vinto io Francesco mi dispiace paghi pegno non abbiamo tempo lo dovevo fare io e tu non lo fai ah e quindi? vabbè fai ah vai ah ce l'ha rimasta male solo uno ma è solo uno vai dobbiamo pagare pegno entrambi eh cosa vuoi pagare? ma come fa? scegli tu poi tanto ci rivedremo e lo pagiamo allora io mi ho accoglato di un bonifico di un? bonifico ha sbagliato proprio porta e fortuna vai avanti allora secondo me tu come pegno ci devi far vedere come ti togli la giacca va bene ma però ho il microfono ma deve essere una cosa ho il microfono adesso ho il microfono adesso e ti vuoi togliere i pantaloni? beh togli solo una spalla dai e tu togli la puma e io tolgo il boa culo e culo televisione di altissima qualità allora il tempo a nostra disposizione mi sembra sia finito giusto? si è finito peccato peccato davvero ma Francesca tornerà a trovarci una promessa o una minaccia scegliete voi per me è una promessa quando vuoi caro grazie Franci la prossima volta mi porti anche il copricapezzolo va bene però poi te lo metti me lo metto però te lo metti pure tu ragazzi allora noi ringraziamo Francesca Filardo in arte Candy Bloom mi raccomando i suoi spettacoli su YouTube è bravissima ma grazie noi ci rivediamo alla prossima sempre con SDM Scatozza cambio di programma chiudiamo con Fever forza aspetta vediamo se quello è lento è stato un piacere cara no stavo buttando mamma che gattona guardatela in tutto il suo splendore tutta sensualità mamma mia fai che recupero il guanto in the morning a Fever all through the night ciao